E' un morto! Dove è un morto? Dove? Massimino, ma ti pare normale? Qui si contribuisce tutti per cercare di migliorare la situazione della tenuta? Ma no, ma non mi puoi cacare in casa! Lassù è un inferno. Poi qua giù Massimo. Oh, che me che te rovigli! Ti faccio la faccia! Purtroppo a Pinetta ci è capitato un sindaco un po'. Ah! Guardate che io ne posso più! Io ci sto tutti i giorni con quel mangiagatti maledetto! Ci sei cascata, eh? Ma hai l'anacro dolce che non sei alto! Ma è incredibile! Qui hai barlume! Ogni volta siamo punti a capo! Ma come metodo ha questa curiosità per un incidente? Perché forse non è stato un incidente? Ah! Eh! Ti ricordo il diploma a Texas Police Academy. Online, però. Sì, ma il nostro training slash sporco lavoro di strada ce lo siamo fatto, no? A Pinetta! Oh no! Ma sei una capra qua? Sì, quella, sei a Patrizia. Ma il figlio di Don Castrano! Ti spiego forte! A me lo vede morti e mi viene fa... Non ti è bastato mangiarti mezzodì? No, questo è un vaffranculo che è tornato indietro. Salve Battaglia! Stavo seguendo una pista. Sì, sì, certo. Ehi, grazie, ordinate ora che ci si scatena dopo! Sempre una ce n'è! Hai risolto un bel problema? E va bene così, ma poi te ne restano mille. Au! Zing, zing, zing! Grazie a tutti! Grazie a tutti i nostri margini! Grazie a tutti!